All'interno della nostra ciotola mettiamo il macinato, sbricioliamo dentro le salsicce, aggiungiamo anche l'uovo, il pane che prima abbiamo ammolato nel latte e iniziamo ad impastare tutto quanto. Come potete vedere non aggiungo né sale né pepe perché se le salsicce sono buone sono già molto saporite. Giusto un pochino di prezzemolo per dare un po' di freschezza. Impastiamo per bene finché non otteniamo un composto come quello delle polpette. Potete usare le cipolle che preferite, in questo caso sto utilizzando queste qua dorate. Una volta che le abbiamo sbucciate andremo a rimuovere l'interno, tranquilli che non va sprecato. Lasciamo giusto due anelli e le mettiamo in acqua. Adesso non dobbiamo fare altro che farcire le nostre cipolle. Come potete vedere ho lasciato giusto due giri di cipolla ma volendo potete utilizzare anche soltanto uno. Le cipolle riempite prepariamo la teglia, affoderiamola con la carta forno e mettiamo sul fondo delle fette di patate. È importante non tagliare le fette né troppo spesse né troppo sottili perché devono cuocersi nello stesso tempo delle cipolle. Condiamo le patate con un pizzico di sale, aggiungiamo sopra gli scarti delle cipolle e anche una bella spolverata di finocchietto selvatico. Ovviamente questo solo se vi piace, a me piace tantissimo il finocchietto. Fatto questo andremo ad appoggiare sopra le nostre cipolle ripiene. Aggiungiamo qualche rametto di rosmarino qua e là e copriamo la teglia con un foglio di alluminio. Inforniamo a 200 gradi per circa 10-15 minuti, dopodiché togliamo l'alluminio e lasciamo cuocere le nostre patate con le cipolle per un'altra ventina di minuti a 180 gradi. Un bacione e ci rivediamo prestissimo sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao! Grazie a tutti!